cari amici che come me state dalla parte della innovazione un saluto da nat russo oggi vorrei parlarvi delle smart factory cioè le fabbriche intelligenti il progetto industry 4.0 passa per il concetto di smart factory che si compone fondamentalmente di tre parti la smart production cioè nuove tecnologie produttive che creano collaborazione tra tutti gli elementi presenti nella produzione ovvero collaborazione tra operatore macchine e strumenti una seconda componente che potremmo definire smart service tutte le infrastrutture informatiche tecniche che permettono di integrare i sistemi ma anche tutte le strutture che permettono in modo collaborativo di integrare le aziende per esempio fornitore cliente e questo è una cosa veramente molto importante tutte le aziende vanno integrate tra loro e poi vanno integrate con le strutture esterne per esempio aziende strade hub gestione dei rifiuti e così via una terza area potremmo dire riguarda la smart energy tutto questo sempre con un occhio attento ai consumi energetici creando sistemi più performanti e riducendo gli sprechi di energia lo smart manufacturing e la strada fondamentale per il rilancio dell'industria in particolare di quella italiana che da questo punto di vista è un po arretrata consente di far lavorare in modo più intelligente e connesso tutte le risorse portando velocità e flessibilità elementi di cui le imprese manufatturiere hanno bisogno per recuperare competitività una condizione essenziale per sopravvivere a mercati sempre più avanzati e globalizzati soprattutto per un paese come il nostro che ha nella manifattura e nelle esportazioni una delle ricette per uscire dalle secche della recessione sempre possibile sempre dietro l'angolo quindi produzione logistica manutenzione qualità e sicurezza non c'è un solo reparto in cui oggetti comunicanti analisi dati non possano fare la differenza quindi il cloud e l'advanced human machine interface si candidano definitivamente per diventare le prossime tecnologie di riferimento attraverso macchine connesse tra loro e alla rete visori per la realtà aumentata comandi vocali e gestuali disponibili anche a distanza ecco che allora due parole diventano chiave la prima è una frase internet of thing l'internet delle cose e big data la seconda frase che vuol dire una enorme quantità di dati che vanno analizzati gestiti e utilizzati al meglio sono già pronte sia il cloud sia lo yacht sia il big data sia la lettura del big data sono già pronte per valcare la porta di fabbriche e di uffici i sensori riducono la dispersione energetica wear lab e stampa 3d sono perfetti per rivelazioni sul campo e prototipizzazioni e riparazioni veloci le strategie digitali riducono i costi indicativamente un 4 per cento anno aumentano l'efficienza anche questo un 4 per cento anno ed aumentano i ricavi all'incirca un 3 per cento l'anno 4 più 4 più 4 più 3 fa 11 quindi un miglioramento della 11 per cento nei prossimi cinque anni le aziende che adotteranno strategie digitali raddoppieranno dal 33 per cento al 72 per cento con un impatto positivo sia sulla riduzione dei costi sia con l'aumento dell'efficienza sia sull'aumento dei ricavi nel corso dei prossimi anni si vedrà quindi un aumento della produttività in tutti i settori produttività legata a miglioramenti sui costi di conversione escludendo il costo dei materiali che rimane sempre comunque centrale includendo costi dei materiali si scende in quello che è il miglioramento possibile mentre gli aumenti della produttività varieranno dal 5 all'8 per cento questi valori variano a seconda del settore industriale di riferimento ad esempio l'aumento nelle aziende automobilistiche addirittura può sfiorare il 20 per cento ma che ne sarà dell'occupazione sarà un'opportunità per non dover più svolgere lavori pesanti, usuranti e faticosi ma non vi è dubbio che ci sarà un calo dell'occupazione di lavoro manuale soprattutto in operazioni come il montaggio e l'imballaggio questo calo però sarà compensato da nuovi posti di lavoro più qualificati e più remunerati molto dipenderà dalla rapidità con la quale i lavoratori sapranno acquisire le nuove skills richieste per lavorare in una nuova fabbrica per sapere gestire i big data per saper gestire analisi complesse e comandare tecnologie sempre più sofisticate i cambiamenti saranno sicuramente immensi saranno ecosistemi giganti digitalmente parlando che ospiteranno ogni utente che voglia fondersi ed integrarsi con esse cioè creare delle piattaforme destinate all'industria che possano permettere ad ogni singolo utente sia un'industria sia una compagnia di fare come si dice plug and play un concetto mutuato dal settore gaming cioè in pratica inserisci la spina e gioca quindi facilissimo bene ma poi noi vogliamo inserire la spina e giocare perché la creazione di questi ecosistemi implica una intera realtà quelli che sono i vecchi distretti industriali per esempio che possa entrare in simultanea nello stesso ambiente la sfida beh qui si pone uno scoglio legato alla italianità perché l'individualismo che connota le aziende italiane e ancora di più le piccole e medie aziende è un elemento manifesto nel tessuto industriale italiano la mentalità italiana è quello del faccio tutto io so tutto io e in particolare su questo si basano le piccole e medie industrie della nostra penisola ma viene difficile pensare che tutte queste realtà siano pronte a entrare in un sistema di condivisione guardate un po' che cosa succede diciamo c'è un aumento della interazione tra cliente consumatore e produttore chiunque decida di entrare dentro questo sistema o come cliente o come consumatore finale di comprare prodotti o servizi di industrie 4.0 sarà nel sistema che sa tutto di quello che il cliente vuole in tempo reale una cosa simile in piccola scala già succede con le piattaforme social come credete che facebook sappia che pubblicità mettervi sotto il naso in gergo si chiama retargeting facebook prossimamente lancerà una banca perché possiederà abbastanza dati per decidere se dare prestiti o meno e che tipo di banca sarà facebook, amazon, apple ecco integrate questa visione capirete cosa significhi per le aziende un fattore di previsione di trend interessi, manutenzione mai eguagliati nella storia dell'uomo per le aziende, clienti o consumatori una totale apertura verso l'esterno un altro elemento è l'efficientamento energetico ergo con una minore entropia causata da operai e personale umano ogni impianto aumenterà la precisione nella distribuzione e utilizzo delle risorse energetiche ergo una decrescita della domanda di energia e una perfetta prevedibilità ergo un impatto positivo per l'ambiente ma l'occupazione si modificherà completamente la potenzialità di produzione a basso costo ed elevata precisione porterà molte aziende a riaprire impianti nel mondo occidentale l'abbiamo già detto si chiama reshoring questo fenomeno è una cosa positiva? certamente per i cittadini occidentali significherà posti di lavoro diversificati rispetto a prima con un tempo di addestramento della forza lavoro totalmente differente con contratti non più di lavoro subordinato e meno che mai a tempo indeterminato in pratica un'industria non avrà bisogno di dipendenti di operai ma di collaboratori con liberi professionisti naturalmente avremo una enorme velocità del reshoring che aveva oggi convenienza a produrre in Cina, in India o altre nazioni a basso costo di lavoro quindi produrre off-shoring per lui sarà conveniente tornare ma non saranno garantiti i livelli occupazionali che erano presenti in precedenza la stima è una discesa dell'occupazione del 15% ci saranno diminuzioni dei costi produttivi aumento dei margini la maggiore disponibilità di dati la minore inerzia umana l'efficienza dei processi produttivi porterà sicuramente a risparmi nella produzione e aumento dei margini possiamo addirittura pensare che ci sarà una rimodulazione della politica economica planetaria perché Industria 4.0 è sicuramente una soluzione per tornare competitivi con quelli che erano i paesi emergenti una recente analisi del Guardian affronta il tema della futura disoccupazione nei paesi in via di sviluppo che si troveranno a fronteggiare una competizione da parte dell'industria 4.0 occidentale solo la Cina anche in virtù di una capacità a risolvere le problematiche sociali in modo diciamo molto deciso avrà la capacità e le risorse per adattare fabbriche verso una soluzione 4.0 e l'aumento di disoccupazione porterà a raffrontare seriamente il reddito di cittadinanza come necessità non come scelta populista e voto di scambio di qualche politica